I salumi di cavallo sono dei prodotti di nicchia ed è un'esigenza antica. L'esempio è la bresaola di cavallo della Val Chiavenna, è rossa e magra e c'è anche il cacciatorino di cavallo e la slinsega. Il salumi di cavallo è un prodotto di nicchia. La tradizione della bresaola nasce in Val Chiavenna e diffondendosi in Val Tellina quale metodo di conservazione di carni che in origine non erano principalmente di bovino, come oggi, ma di selvaggina, nonché di equino. L'antica usanza non si è del tutto spenta, ma le lavorazioni originarie, nate in ambito casalingue e tramandate oggi a livello artigianale, si sono trasformate in specialità di nicchia che non sempre è facile gustare. È un'esigenza antica. Qualcuno sostiene che la salagione delle carni equine, in molte zone del settentrione, deriva dall'uso di lavorare gli animali appartenuti alle carovane in movimento da Oriente a Occidente e viceversa, abbattuti perché troppo vecchi o condannati da cadute o malattie. Ma la tradizione si registra anche in località assai lontane dagli usuali tragitti di queste carovane. È possibile, invece, che all'origine delle bresaule o eslinzeghe vi sia l'esigenza di conservare, oltre a quelle dei selvatici cacciati, le carni d'animali da lavoro, abbattuti per motivi analoghi a quelli citati in zone montane, dove, oltre alla necessità del trasporto della legna, le caratteristiche dei terreni erano spesse impervi e mai troppo estesi e facevano talvolta preferire gli equini anche per il lavoro nei campi. Fatto sta che in Val Chiavenna e in Valtellina si perpetua la tradizione dei salumi di cavallo, estesasi poi a Novarese e a Monferrato in Piemonte, anche se la stragrande maggioranza delle carni è oggi di importazione. È carne rossa e magra. La bresaola di cavallo, di grande pregio gastronomico, si ricava da tagli equini nobili, per lo più magatello e noce di coscia, ma anche fesa e lombo, nettati e rifilati, stipati in conca, che una volta era in faggio di rovere, oggi è da cià inossidabile, con sale, pepe, aromi naturali, macinati grossolanamente, fra cui alloro e ginepro, e spezie secondo il genio del salumiere, nonché sovente anche del vino. Dopo una decina di giorni, durante i quali sono mossi e girate più volte perché prendono meglio la salamoia, formatasi colare dai succhi che il sale estrae dalle carni, i pezzi asciugano in locali molto secchi e ben areati, indi stagionano un paio di mesi, anche tre se di pezzatura grande. Il peso del salame, finito, può infatti variare da un chilo e mezzo a quattro chili. Al taglio, la presaura di cavallo, rivela grana soda color rosso cupo, la fetta compatta ma flessibile, tagliata sottile per risultare ancora più tenera, ha profumo gradevolmente intenso e sapore delicato, piacevolmente aromatico. Magrissima, particolarmente indicata nell'alimentazione degli sportivi, la presaura di cavallo s'apprezza al meglio con olio e limone, nonché scaglie di grano padano. Ma c'è anche il cacciatorino di cavallo, che è diffuso nel territorio compreso fra la Valchiavenna e la Valtellina, in provincia di Sondrio. E il cacciatorino di cavallo è un piccolo salame assai simile all'aspetto a quello suino dello stesso tipo. Esso nasce dall'esigenza di smaltire le rifilature delle cosce e le parti anteriore utilizzate nella produzione della presaura di cavallo. L'impasto di questo salamino è composto per il 70% da carne equina e per il 30% di pancetta e lardo di suino. Il composto, una volta tritato, viene arricchito con sale, pepe, droghe naturali e si insacca in un modello di maiale. Dopo l'asciugatura, il cacciatorino viene posto da stagionare per 10, 15, 20 giorni. Il prodotto che deriva ha un gusto deciso, caratteristico e assai persistente, dominato da un aroma intenso, forte e speziato. La slinsega Al pari della sorella bovina, la slinsega di cavallo è di antichissima tradizione vacchiavenna. È più piccola, un peso che non oltrepassa i 700 grammi, ma la più pregiata è della presaula. Ricavata dalla spalla dell'equino, ha caratteristica forma oblunga. Trattamento e stagionatura ricalcano quelli della bresaula, con la differenza che la slinsega può essere anche affumicata. Il colore è più scuro, il sapore gradevolmente deciso e consiglia di gustarla al naturale, con del buon pane e un eccellente sorso di rosso della valtellina. grazie a tutti.